Under, quanto mai senior oggi del CT EUR, che gol non vale un punto, vale molto di più? È un gol molto importante per me e per la squadra, per me prima di tutto perché era tanto che non segnavo e mi serviva questo gol per sbloccarmi e per la squadra era molto importante perché siamo riusciti a non perdere, a pareggiare una partita che ha avuto un esito importante per noi perché era importante non perdere e portare i punti a casa in vista della classifica e della prossima partita. Senti, oggi parliamo un po' della partita, al primo tempo siete saliti su un campo grande, forse non si aspettava nessuno e invece avete retto fisicamente e anche di testa quando dopo tre pali siete andati sotto. Sì, è un campo molto difficile, noi siamo abituati agli spazi stretti, questo campo è molto largo, è buono per attaccare gli spazi però al tempo stesso è faticoso difendere perché ci sono più spazi da attaccare. Siamo stati molto sfortunati, abbiamo preso quei tre pali e il gol ci ha aiutato a svegliarci nel secondo tempo e ci ha fatto risalire come una grande squadra. Senti, nel primo tempo sotto di un gol l'allenatore cosa vi ha detto per stimolarvi? Comunque il primo tempo era stato buono, cosa si dice in quei casi? Ci ha rincuorato, ci ha caricato, ci ha detto che dobbiamo essere più svegli nelle pali inattive perché questo è il nostro punto debole e ci ha dato una spinta per ricominciare il secondo tempo alla grande anche dopo aver subito il secondo gollo ci ha sempre caricato. La prossima è una partita molto difficile, abbiamo dalla nostra parte che giochiamo in casa siamo molto forti lì e siamo carichi di questo pareggio molto importante all'ultimo e ce la metteremo tutta per dimostrare che noi siamo lì e se siamo lì un motivo c'è. Ok, grazie mille. Ciao